800 euro al mese per un posto letto è una cifra che solo pochissimi studenti universitari fuorisede possono pagare. I 660 milioni di euro del PNRR che il governo intende utilizzare per gli alloggi potrebbero contribuire almeno in parte ad alleviare il problema del caro affitti in diversi atenei italiani. Il piano prevede di creare 60.000 nuovi posti letto nelle residenze universitarie entro il 2026, dopo che il Ministero dell'Università e della Ricerca avrà pubblicato la manifestazione di interesse rivolta agli enti pubblici che hanno immobili in disuso e farli così diventare studentati. Il problema tocca in modo marginale l'Ateneo Gabriele d'Annunzio di Chieti Pescara dove per avere in affitto una stanza singola si pagano circa 180 euro al mese e 240 euro nelle residenze dell'azienda per il diritto allo studio universitario dove la somma comprende tutte le utenze e numerosi servizi. Un esempio virtuoso rispetto ad altre realtà italiane come testimoniano le numerose proteste e mobilitazioni attuate in diverse città e partite da Milano dove i prezzi sono esorbitanti. Fiorezzo Foti ha scelto il corso di laurea e logopedia d'Annunzio per la qualità dell'offerta formativa ma anche per i prezzi contenuti degli affitti. Racconta la sua esperienza ma anche quella di altri studenti calabresi che vivono in città come Roma e Milano. Pago 180 euro al mese per una stanza singola qui a Chieti siamo fortunati. Il problema di Milano, di Roma, dei grandi atenei che accolgono tantissimi studenti del Sud Italia ad esempio è che lì c'è veramente una situazione difficile col caro Fitti si arriva anche a pagare 800 euro per una stanza, 600 euro per una stanza condivisa quindi abbiamo anche problemi proprio di spazi cioè lì è un problema veramente serio che qui io personalmente ovviamente poi sono magari un'eccezione però io non sto riscontrando i miei amici che studiano a Milano, Roma, nei grandi atenei dicono che è insostenibile la situazione perché oltre a pagare l'affitto poi devi anche vivere quindi si arriva magari a 1300-1400 euro per un singolo studente non è semplice fare fronte a queste cifre quindi anche per la famiglia è una spesa gravosa.